Nell'agro redento per la marcatura del bestiame, con un'abilità che non ha nulla da invidiare a quella dei famosi cowboys del far west e delle pampas, i nostri butteri saldi in sella radunano i puledri focosi e i bovini spauriti per la marcatura a fuoco, recorrendo spesso al laccio per arrestare l'impeto delle bestie imbizzite e scorazzando nella campagna sui cavalli domati dalla loro forza e dalla loro destrezza. Sì, 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 sì. Sì, sì. 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 Sì.